Oddio era un po' che non facevo un video Ma bella 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 tutto bene? Oggi andremo a fare dei Black Clutch Extension Anche dette prolunghe Come distro mi ha fatto venire voglia di fare questo video Andremo su grieve.eu Ovvero un server dove ti puoi allenare a fare una di queste modalità E per un'ora cercheremo di fare più clutch possibili Vediamo quanti riesco a farne Vi scongiuro ho speso troppo tempo ed energia nel fare questo video Raggiungiamo i 2000 like se no veramente smetto di fare questi tipi di video Vi invito ad iscrivervi che siamo vicinissimi ai 34.000 iscritti Quindi nulla vi lascio il video Ciao Quello ragazzo si che ha capito il vero senso della vita Comunque adesso vi spiego un po' come funziona Allora praticamente su questo server potete settare l'intensità e la durata della hit ok? In pratica se andate qui su clutch setting tutto il resto non interessa Potete scegliere quante hit potete ricevere Io per esempio ne ho messo 4 E sono tutte impostate su easy ma se volessi andare un pochino più forte Posso mettere medium e se voglio veramente andare proprio lontano Ma lontano 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 Posso mettere hard Comunque adesso non voglio perdermi in chiacchiere Voglio subito buttarmi a fare questi clutch E vediamo se riesco effettivamente a fare un bel black extension Ok allora Vedo che un sacco di gente mettono i blocchi tipo qua davanti E io butterfly clicco perché Butterfly clicco perché non so dare a cliccare Andiamo No Devo tipo Dovrei tipo curvare la mira Guardare verso il basso man mano che volo in più in avanti E rip E' fattibile ma vabbè Dovete avere praticamente un altro numero di cps Perché sennò col cavolo che riuscite a farlo E dovete avere anche mira Madù Andiamo Ok vai vai No Se riesco a piazzarmi lì davanti Tipo così In teoria dovrei riuscire pure a mettermi sotto i piedi Man mano che vado indietro Lievemente sposto la mira verso il basso Ciao ciao ci vediamo domani Ok Ho fatto il mio primissimo block lacido Ci credo sono felicissimo Sono tipo Ma E' ghost Ciao ghost Ti insegno io Esco No Che figura di merda Quasi Quasi No Oh my god Oh No Quasi No Forza forza Let's go Vai ghost Stupiscimi Oh no Oh my god Qua Quasi E' sempre quasi per me no Non è mai completato Ma è sempre quasi Mi va sopra Mi va tipo sopra la testa Mi fa pallonetto Cioè guarda Sto sbagliando qualcosa Sì la mia vita Magari miro qua Oh Oh my god Mamma mia No Pausa 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 Di nuovo Oddio Ok L'ho fatto due volte Il secondo è stato Il migliore Decisamente Voglio vedere Se riesco a rifarlo Un'altra volta No No Male Male No Ok Ok Rip Persona Mira Ghost è caduto Ah vabbè Non ho cliccato No No Ok Ci riproviamo E vediamo se Ho fatto un pene Lo rifaccio tanto per Dovrei sfidare uno youtuber A fare sta roba Scegliete uno youtuber Da sfidare Ho sbagliato Ho sbagliato Lato Oddio Ti sei felice Tu lo sai Battire Le mani E vabbè Non è andata in Africa Ho sbagliato Lato ancora Non ci credo Sì Sì Ma Ghost sta migliorando Un ma un sacco Cioè lo vedo Dall'altra parte Della mappa Fatemi vedere Fermi un attimo Fermi un attimo Cioè guardatelo Grande Sta sempre migliorando Sempre di più Sempre di più Ok sta peggiorando Ghost guardami 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 Oh no No Ma allora Non riesco a piazzarmi Sotto i piedi Magari sono io Che sbaglio Oddio Ok lo faccio Per l'ultima volta E poi basta Non sto più parlando Ho spesso di parlare Mi sono dimenticato Che sto registrando È la concentrazione Raga Eh vabbè Ho switchato Oh my god Non riesco più a farlo Ve lo giuro Mi arrendo Mi arrendo Non riesco più Pausa Pausa Da quanto Siamo qui Quasi un'ora Ok a posto Abbiamo capito Che è molto difficile Farlo Col butterfly È quasi impossibile È possibile Ma non conviene È meglio Interparare Il drag Long drag E poi lo si fa Io non so farlo Quindi Mado Quanto dovrò Editare Sto video Che sta twerkando Che fa Che fa Quell'uomo Se avete dei consigli Per favore Fatevi sotto Nei commenti Perché io sono esausto È da un'ora Che sto butterfly Cliccando Come un dannato E non riesco A Mettere i miei blocchi Sotto i piedi Quindi provo a mirare A blocco sotto Magari Non dirmi che Non dirmi che Il trucco Stava Non ci credo La mia mia Deci PS Si è pure abbassata Da quanto tempo Sto cliccando Veramente Sono stanchissimo Non ce la faccio Pira Veramente Se non mi ha registrato Il video Mi faccio bianco Ve lo giuro Su quello che volete Sto sudando Figa Non ce la farò Mai più No dai Basta Veramente Non ce la faccio Più È da un'ora E pazza Che sono qua La mia sanità mentale Non ce la fa Non riesci a reggere Tutto questo Perché non prendi I blocchi Bliat Ce la puoi fare Dammi forza E si mette a te Perché Tough time Never last Alzate tutti Le mani A presto il cielo Che si ricorda Mi voglio ammazzare Mi ammazzo Penso che il video Possa finire qua Sono letteralmente Distrutto È da più di un'ora Che sto registrando Vi farò vedere Esattamente La proof Che sto registrando Da più di un'ora E c'è pure Ghost qua Che me lo può confermare Quindi nulla ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciatemi un bellissimo like Iscrivetevi Se ancora non lo avete fatto Datemi un consiglio Li accetto tutti Per favore Aiutatemi Imparerò a farlo Sì Mi arrendo No Per oggi però basta Bella Ciao a tutti Grazie per la visione!